Lei ha la faccia del Radical Sheik, è uno che da giovane occupava un palazzo che però era di mamma, i Radical Sheik non si fanno una risata, dicono adoro, i Radical Sheik dicono resilienza, il popolo dice non mazza tanto, io non ce li ho perché stamattina avevo in tasca 60 euro, ma come sempre me li ha rubati lo Stato, e quando hai incontrato Calderoli sull'autonomia pensi io gli parlavo e sembrava persino che capisse.